Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno e buon lunedì 24 ottobre con il Vangelo secondo Luca 13, 10-17. Una volta stava insegnando in una sinagoga il giorno di sabato. C'era là una donna che aveva da 18 anni uno spirito che la teneva in ferma. Era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse Donna, sei libera dalla tua infermità, e le impose le mani. Subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, rivolgendosi alla folla disse Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare, in quelli, dunque, venite a farvi curare, e non in giorno di sabato. Il Signore replicò Ipocriti, non scioglie forse di sabato ciascuno di voi il bue o l'asino dalla mangiatoia, per condurlo ad abbeverarsi. E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto legata a 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato? Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Segue la lettura del commento di Don Luigi Marie Picoco Gesù la vide e la chiamò a sé La fede inizia con l'amore di Dio per noi Il racconto del Vangelo di oggi è costruito sulla sofferenza di una povera donna, che da 18 anni è in ostaggio di un male che le impedisce di vivere una vita normale. Nel dolore di questa donna possiamo leggere tutte quelle vicende che riguardano la nostra vita, e che ci fanno vivere ripiegati su noi stessi. Delle volte è talmente tanto complicato accorgersi, come certe vicende ci hanno chiusi, che non riusciamo nemmeno a chiedere aiuto, a pregare o a desiderare un vero cambiamento. Infatti la cosa che colpisce è che non è questa donna a cercare o vedere Gesù, ma è Gesù a vedere e a prendere iniziativa nei confronti di questa donna. Sembra che il Vangelo di oggi voglia rassicurarci del fatto che la fede non è solo l'esperienza di cercare e trovare Dio, ma è anche la certezza che siamo cercati e amati da Lui, prima ancora che noi ce ne accorgiamo o abbiamo la forza di fare delle scelte. Infatti il fondamento della fede non risiede in una nostra capacità, ma nella capacità liberante che ha Cristo, nei confronti della gente che incontra. E questa capacità è talmente chiara e lui che, anche quando viene contestato a causa proprio della compassione esercitata nei confronti di questa donna durante il sabato, egli la difende con tutte le sue forze.